È un Sarkozy contrariato a quello che parla ai giornalisti dopo una notte di trattative. Per il presidente francese la volontà del Regno Unito di essere esonerato dall'applicazione della regolamentazione dei servizi finanziari ha fatto saltare l'accordo unanime. Come sapevate avremmo preferito una riforma dei trattati a 27. Ciò non è stato possibile, tenuto conto della posizione dei nostri amici britannici. Sarà invece un trattato intergovernativo a 17, aperto a tutti coloro che vorranno unirsi a noi. Per Sarkozy accettare una richiesta di deroga avrebbe voluto dire rimettere in discussione buona parte del lavoro compiuto sulla regolamentazione della finanza. Anche l'Ungheria ha deciso di non firmare il trattato, mentre la Repubblica Ceca e la Svezia consulteranno i loro parlamenti prima di prendere una decisione.